Tratteremo in questa conversazione il periodo della storia della Compagnia di Gesù corrispondente ad alcuni decenni del XVIII secolo che culminarono nel 1773 nella soppressione dell'ordine sulla base di un breve papale del pontefice Clemente XIV. Intendiamo qui con il termine soppressione in senso proprio lo scioglimento dell'ordine sulla base del diritto canonico allora vigente, mentre negli anni precedenti si verificarono numerosi casi di soppressioni e conseguenti espulsioni. Consistenti invece in atti di governo da parte degli stati dell'epoca, atti con i quali membri dell'ordine perdevano il diritto di permanere e operare nei territori di giurisdizione degli stati stessi. I padri venivano allontanati anche con episodi di vera e propria deportazione, cessando ovviamente tutte le attività di carattere missionario, educativo, caricativo e anche economico dipendenti dalla Compagnia di Gesù. Se è vero che nel secondo secolo di vita dell'ordine che si conclude nel 1740, la crescita numerica si era rallentata rispetto ai primi 100 anni, non di meno l'estensione delle opere e l'ampiezza della presenza geografica dei padri era comunque certamente cresciuta. Possiamo quindi considerare i primi decenni del 1700 come un momento di apogeo. I 20.000 padri della Compagnia popolavano da oriente a occidente tutte le terre raggiungibili cittadini, geograficamente parlando, con fondazioni, case, collegi, missioni e avevano dato vita allo straordinario esperimento delle Reduziones Paraguiane durate un secolo e mezzo. La loro presenza nella vita pubblica e culturale, oltre che religiosa, era certamente rilevante e di pari passo andava la loro influenza dai ceti più popolari fino alle corti. Gli anni successivi dei primi decenni anni del 1700 si trasformarono però in un periodo di grandi controversie e di contrasti nei confronti dell'ordine. Certamente la Compagnia era già stata al centro di controversia negli anni precedenti, anche se prevalentemente di carattere teologico all'interno della Chiesa stessa, come quella con i jansenisti. Rilevante eccezione fu quella sull'approvazione del regicidio, in realtà prudente teorizzazione del tirannicidio, riferentesi al caso ipotetico di un re gravemente indegno, teorizzazione fatta dal noto gesuita padre Mariana che venne però vista come manifestazione di lesa maestà e che fu nel 1594 causa di una prima temporanea espulsione dei gesuiti dalla Francia. Comunque ciò non impedì ai gesuiti di essere presenti, apprezzati e ambiti addirittura nelle corti europee come cappellani, confessori ed educatori, influenti consegnieri e con le comprensibili e conseguenti invidiosi di queste ostilità da parte di tanti altri. Seppure queste ostilità non fossero mancate in precedenza, nel XVIII secolo andarono consolidandosi ed estendendosi, principalmente per due motivi. Da una parte il diffondersi della cultura illuminista con il suo carico di laicismo anticattolico, dall'altra il consolidarsi della politica giurisdizionalistica degli stati europei, ormai modellati sull'assolutismo e quindi decisi a ridurre se non ad eliminare le influenze della Chiesa e far prevalere il potere statale. Il termine giurisdizionalismo infatti sta precisamente a indicare la politica intesa ad estendere il potere dello Stato anche sulla vita e sull'organizzazione della Chiesa. Se consideriamo come i Gesuiti fossero ritenuti, e a ragione per la loro cultura e influenza, il baluardo della Chiesa, comprendiamo bene il senso delle parole di Voltaire che in una lettera a Helvetius Altro Illuminista auspicava che, citazione, quando avremo eliminato i Gesuiti avremo fatto un grande passo avanti nella nostra lotta contro quella cosa detestabile e con ciò intendeva ovviamente la Chiesa Cattolica. La radicale critica alla teologia e alla morale cattolica degli Illuministi non poteva che trovare la più ferma opposizione da parte della Compagnia di Gesù. Da parte loro gli Illuministi, al di là della controversa culturale, accusavano i Gesuiti di propensione all'intrigo e del desiderio di governare gli uomini con gli strumenti della religione, coagulando su questi temi anche ostilità di altra provenienza ideale. Dalla Francia la polemica antigesuita si estese e trovò terreno fertile anche negli altri Stati europei, giungendo con qualche ritardo anche negli Stati italiani, legandosi anche a motivi di carattere politico ed economico ovviamente, all'equilibrio dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e gli Stati stessi e non ultimo al dibattito sulle proprietà ecclesiastiche. In Italia, come in Europa, il progressivo diffondersi della stampa fu lo strumento principale della campagna antigesuitica, con il supporto di giornali e di ogni genere di opuscoli e libelli che alimentavano la polemica e surriscaldavano gli animi. Saranno poi le monarchie a trasferire il piano teorico all'azione concreta, agendo con tratti persecutori nei confronti dell'ordine. La soppressione dell'ordine nel 1773 fu solo l'ultima conseguenza di una serie di eventi che trovarono origine in questa situazione, consistenti in diverse azioni ostine nei confronti dei Gesuiti e, in pratica, come abbiamo ricordato, nella loro espulsione dai territori di molti Stati. Il precursore fu il Portogallo dove regnava Giuseppe I, con il suo ministro Sebastião José de Carvaio e Melo, poi devenuto marchese di Pombal. Di fatto una sorta di dittatore a servizio di un assultismo illuminato, tendente al controllo totale del paese e della sua popolazione. Ciò con episodi anche di feroce repressione. La corona portoghese nel 1759 dichiarò soppressa nei confini nazionali e nelle colonie la Compagnia di Gesù. Non fu un atto improvviso, bensì preceduto da una benorchestrata campagna di diffamazione, che culminò nell'accusa di cospirazione in seguito al tentato a regicidio del settembre 1758, da cui il sovrano uscì indenne, ma che fu occasione di persecuzione non solo dei gesuiti, ma anche di esponenti della nobiltà non allineati alla politica del potente ministro. La situazione era comunque tesa anche in funzione della resistenza organizzata in armi, che le riduzioni gesuitiche opposero la spartizione dei loro territori tra Spagna e Portogallo, intese ad accaparrarsi le loro risorse senza l'ingombrante presenza dei padri e facendo venir meno l'organizzazione delle popolazioni indigene che i padri gesuiti appunto erano andati costruendo in un secolo e mezzo. In Portogallo, a parte gli incarcerati con l'accusa di congiura, i 1700 gesuiti presenti vennero imbarcati a forza e vagarono a lungo nel Mediterraneo, ovunque respinti finché sfiniti poterono approdare la civita vecchia nello stato della chiesa. La politica del De Carvaio era di più ampia portata e sostanzialmente anticattolica e antiromana, fino al tentativo, a servizio del suo rigido giuridizionalismo, di dar vita a una chiesa nazionale scismatica. Osserva sinteticamente lo storico Franco Venturi che lo scopo di tutto era, aperta citazione, concentrare su un unico nemico, il gesuita, i risentimenti e le rivolte contro il cattolicesimo della controriforma. Un solo avversario alla compagnia di Gesù. La sua soppressione fu sperata e sentita come la premessa di un'epoca nuova, nella morale come nell'economia, nella religione come nella politica. Dopo il Portogallo fu il momento della Francia, dove l'ostilità ideologica non era certo minore. Tutto partì, almeno come pretesto, da questioni di natura economica, relative all'attività imprenditoriale in capo a un gesuita che si erano avviati al fallimento. A questi si aggiunsero, però, questioni di ben altro spessore. Nel Parlamento, infatti, l'alleanza tra gensilisti e gallicani, ovvero coloro che volevano sottoporre la chiesa francese al potere del re, si tradussero nella richiesta ai gesuiti di sottoscrivere le tesi gallicane, cosa che rifiutarono fermamente con l'accordo del generale della Compagnia e del Papa Clemente XIII. Il Parlamento decise in prima stanza di far chiudere i collegi, ma alla fine il re stesso decretò nel 1764 lo scioglimento della Compagnia, mentre era in corso una campagna dei gensenisti così violentemente accesa che perfino gli illuministi ne presero la distanza. Per quanto riguarda la Spagna, anche lì lavorava un partito orientato a estendere a scapito della Chiesa il potere dello Stato. Gli illuministi locali, meno efficaci rispetto ad altri nell'ottenere questo scopo, riuscirono comunque a gettare discredito sulla Compagnia, pretendendone il coinvolgimento in sedizioni di piazza e congiure, fino ad accusarli di mettere in discussione la legittimità regale di Carlo III. Quest'ultimo finì anche lui per accondiscendere al partito antigesuita e nell'aprile del 1767, 2500 gesuiti vendero imbarcati a forza e scacciati dalla Spagna, per finire anch'essi nello stato pontificio dopo una lunga peregrinazione marittima. A seguito l'ondata delle espulsioni si riversò anche sugli stati italiani gravitanti nell'orbita del regno borbonico spagnolo e, nello stesso 1767, il ministro illuminista Bernardo Tanucci convinse il re Ferdinando I ad espellere parimenti gesuiti del regno di Napoli. L'anno successivo lo stesso provvedimento venne preso nel Ducato di Parma. La situazione creatasi non poteva non avere riflessi nello stato pontificio nella Chiesa stessa. La Santa Sede non era ovviamente disposta a rinunciare alle sue prerogative come volevano molti stati europei. Comunque forse si trovava a questo punto in una situazione di isolamento e con il collegio cardinalizio diviso tra sostenitori della compagnia e coloro che ne consideravano la distruzione come il male minore. Nel 1769 venne eletto al solio pontificio Clemente XIV, tiepido nei confronti degli esuiti e di carattere debole. Sottoposto a costanti pressioni sia per via diplomatica da Francia e Spagna sia per via interna dai nemici dell'ordine, resistette per qualche tempo, ma alla fine nel 1773 si decise ad istituire una commissione con lo scopo di redigere gli atti di scioglimento della compagnia di Gesù, cosa che avvenne il 16 ottobre con il breve Dominicus Accredento, seguito a breve da un altro breve, il gravissimis ex causis, inteso ad assicurare l'effettiva osservanza degli ordini papali. Il generale Lorenzo Ricci fu addirittura imprigionato e morì a Castel Sant'Anio. I padri gesuiti si trovarono quindi di fronte a una realtà tanto drammatica quanto paradossale, colpiti nella loro organizzazione e smentiti nel loro impegno apostolico proprio dal pontefice a quale riservavano il quarto voto dell'obbedienza totale. Un dramma che andava certamente oltre lo smantellamento delle loro opere e l'incertezza di vita a cui si trovarono di fronte. A tutto ciò poterono sopravvivere e felicemente riuscirono a dare anche continuità in modo diverso al loro impegno grazie al senso di comunità e di fedeltà nei riguardi del mandato ricevuto dal loro fondatore Sant'Ignazio. una certezza fondamentale che fino a quel momento aveva costituito la forza dell'ordine e che andrà poi a consentire una ricostruzione. Le disposizioni pontifice a questo punto si riversarono sulla compagnia di Gesù a prescindere dalle decisioni politiche degli stati alcuni dei quali però reagirono a protezione dell'ordine come la Prussia, dove di fatto la compagnia pur sciolta formalmente continuò ad operare come prima ma sotto altra veste istituzionale andando a costituire un importante nucleo di continuità. Anche nel territorio della corona sburgica come in tutta l'Italia settentrionale dove si rifugiarono una buona parte dei gesuiti spagnoli a dispetto del recepimento formale dalla parte delle autorità civili del provvedimento pontificio le attività dei padri poterono proseguire con una certa continuità mantenendo coesione tra gli ex membri dell'ordine. Più complessa la situazione in Russia dove inizialmente i gesuiti non potevano nemmeno entrare. In seguito Caterina II che pur era di idee illuministe ritenne utile consentire alla compagnia di continuare a svolgere i propri compiti in funzione di un ruolo pacificatore nei territori cattolici polacchi ammessi all'impero ma anche come rivendicazione di autonomia nei confronti della Santa Sede degli altri stati europei. Caterina decise quindi di non promulgare nei suoi territori il breve pontificio e l'ordine non venne mai fonalmente sciolto nei territori sottoposti alla zarina andando a costituire un altro importante elemento di continuità che diventerà poi significativo per la futura rinascita della compagnia di Gesù. Grazie infatti al successore di Caterina allo zar Paolo I alla fine il papa Pio VII con il breve cattolice Fidei del 1801 riconobbe ufficialmente l'esistenza della compagnia peraltro nella sola Russia. Al di là di queste vicende possiamo dire che nel complesso pur nel travaglio di quegli anni lo spirito dell'ordine rimase ben vivo in tutta Europa e, anzi, dopo la tempesta rivoluzionaria con le sue drammatiche e sanguinose conseguenze il vigore con cui essi avevano combattuto le idee all'origine della sorversione diede loro ulteriore prestigio. La società europea, reduce dall'esperienza illuminista e della conseguente rivoluzione vedeva quindi nei Gesuiti il baluardo culturale e spirituale per la ricostruzione dell'ordine precedente che avvenne con i limiti che storicamente caratterizzano la restaurazione e che ben conosciamo. Il clima era quindi cambiato per quanto le polemiche antigesuitiche non si fossero assorbite e si perpetrasse la leggenda nera contro la compagnia con rinnovata vigore. Infine, con il breve sollicitudum omnium ecclesiarum del 7 agosto 1814 il Papa Pio VII ordinava la ricostituzione della Compagnia di Gesù in tutti gli stati utilizzando l'espressione restituta societas per indicare che non si trattava di una rifondazione ma di una restituzione, una ripresa del diritto esistente dopo una forzata parentesi. Nel frattempo il periodo della soppressione era costato ai Gesuiti il tributo di sangue di circa 700 padri deceduti in conseguenza delle espulsioni e delle deportazioni ma la Compagnia di Gesù poteva ora ricominciare con rinnovato vigore la sua opera. Grazie. 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 Grazie.